grazie presidente è stato trovato senza vita un giovane uomo di 30 anni alla stazione termini è morto di freddo il suo corpo adesso al cimitero del verano oggi è la giornata nazionale dei diritti umani e in italia nell'anno del signore 2021 si muore ancora di freddo non di covi non di tumore ma di freddo eppure ci chiamano democrazia avanzata ecco presidente io mi rivolgo a lei sarebbe bello che in quest'aula ci potesse essere un minuto di silenzio per ricordare questo giovane uomo per ricordare questo giovane uomo la cui vita è stata stroncata non da un cinico destino ma da una responsabilità collettiva delle istituzioni che io credo quest'aula oggi debba rappresentare grazie grazie grazie